Cosa mi deve fare? Eh non lo so È lei il dottore, però deve scendere lei Sto ancora facendo il tirocinio, capito? Ah ok, no, allora me ne vado Mi faccio assistere da qualcuno un po' più aperto Credo che il suo problema sia una dose eccessiva di consolini sopra la pancia che saltano E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph e chi si chiama Roblox E ovviamente ragazzi siamo su Meep City che appena siamo entrati e state invadendo i consolini Guardate una cosa, lo voglio fare, sei pronto? Ok, 3, 2, 1, vai Ci seguono tutti adesso e facciamo una cosa di salto incredibile Guardali, guardali, guarda come saltano tutti Comunque oggi non è un caso che siamo su Meep City Esattamente, hanno fatto un super aggiornamento Hanno aggiunto l'ospedale nel gioco Non sappiamo minimamente di cosa si tratta Ma noi questa mappa l'abbiamo già giocata un po' Abbiamo la nostra casetta, abbiamo fatto un po' di soldini Il nostro animaletto bellissimo che si chiama Steph Puccioso, il mio, ed è molto carino Il mio pallina Pallina Pallina, è perché è una pallina, quindi l'ho chiamato pallina E quindi proveremo tutte le novità e ci divertiremo insieme a consolini E vi faremo vedere anche la nostra casetta Perché non tutti l'hanno vista, tutto quello che abbiamo giocato Comunque, da cosa iniziamo? Io inizierei con l'ospedale, dai, cioè subito Subito, subito, andiamo a prima cosa Dove sarà? De Plaza o Town? Scusa un attimo Dimmi Hanno cambiato un sacco di cose Sì Tipo questo, miglioramenti per la casa, questo negozio È diverso, è più bellino È diverso Qui, 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 qui Ah, ecco l'ospedale Bello Bello, dai, ospedale, andiamo a vedere cosa c'è Guarda tutti i consolini Buon giorno Oggi tutti i mal di pancia Tutti i mal di pancia Su, su, su Aspetta Aspetta Come sta, signora Ferenichi? Ha un po' di febbre Ah, guarda dove sono Eccole qua Oh no Sì, sei da l'ospedale, poverina Vieni qua, vieni che ti ricoveriamo Mi segua, mi segua Per favore No, ma allora mi dovrebbe spingere lei C'è giusto Però aspetta, possiamo fare ancora una cosa migliore Aspetta, eh Ti metti la cosa della paziente? Mi metto Sì, voglio mettermi Oh, mamma mia No, io ti vedo normale No, come mi Ora sì Guardami Guardami È giustamente, è giustamente Ok, allora Allora, dove andiamo? Sì, sì, mi seguo, mi seguo Vado dritto Ok Ok, ok, guarda Qua c'è un bellissimo lettino Aspetta Devo scendere da sola? Sì, devo fare tutto Eccomi qua Allora Eccomi qua Cosa mi deve fare? Non lo so È lei il dottore È lei Sto ancora facendo il tirocinio Capito? Ah, ok, no Allora me ne vado Mi faccio assistere da qualcuno Un po' più aperto Credo che il suo problema Sia una dose eccessiva Di consolini sopra la pancia Che saltano Mi dica se è corretto Mi stanno saltando tutti in faccia Guarda Sì, sì Sì, sì Sono d'accordo Se sente delle fitte Premere intorno al corpo No, in effetti Sento un po' di pesantezza Allo stomaco Un po' la testa pesante Quindi sicuramente Sono i consolini, ecco Non ho niente di grave Allora Ok Allora sono felice Anzi Portano tanto amore e gioia Quindi va benissimo così Ti schiacciano da quanto amore Ti stanno dando Mi sembra di essere Esatto Guarda mi sono fatto male Mi vedi? No Se clicchi sul più Ti puoi mettere il gesto In una parte del corpo Allora aspetta Io lo voglio a gamba destra Vediamo Fammi vedere E poi cammini zoppicando Capito? Vedi che gigante Sì Ho il gesto Sì Ho il gesto No l'hanno fatto benissimo Questo sferale È fantastico E se lo metto in entrambe Le gambe Cosa succede? Vedi sta piangendo Ma no Perché sta piangendo? Un gelato Un gelato Ci vuole un gelato Un gelato Vado a prenderlo subito Torno subito Un attimo Siamo nella stanza Delle radiografie Ok E guarda Tu fai la foto A una persona Ok Praticamente premi il bottone Aiuto Splash Guarda lo schermo Vedi? In questo caso Ha una frattura All'osso Della gamba destra E questa è messa al braccio Falla anche a me Ok Ok Allora Vado? Vai Ok Fai cheese Cheese Ok L'ha fatta? Sì Sì Sto bene? Il braccio sinistro rotto Non è nulla di grave Ok Però il gesto per tre settimane Posso sopravvivere Ok Mi sembra giusto Vuole una pizza? Sì Margherita Grazie Ok Le la preparo subito Margherita Aspetti un attimo Mi porti subito la pizza Allora Aspetto qua seduta Con tutti i consolini Purtroppo la margherita Purtroppo la margherita non c'è Quindi le porto una con i peperoni Ok Va bene? Sì Ecco a lei Grazie La mangi? Prendi una fetta Mi dica se è buona Sì Sì Ma la sto mangiando tutta Sono la più veloce Ti dico la verità Ma l'ha già finita Adesso ce la portano Aspetta Ce ne portano un'altra Guarda i consolini Ci riempiono sempre il tavolo Arrivo subito Questa volta una con la salciccia Pronta una pizza fatta Così si fanno i soldi in questo gioco Quindi mettiamo il sciughettino Sì Un po' di mozzarella In pratica per chi non conosce la mappa di Meep City Anche se penso che la conoscano davvero tutti Per fare dei soldi bisogna lavorare Esatto In questo caso Steph sta facendo le pizze Si può lavorare in gelatteria Si può pescare E con i pesci si guadagnano lo stesso soldi Infatti anche noi abbiamo comprato l'animaletto Proprio con quei soldi E lo stesso per tutte le decorazioni della casa È fantastico Perché puoi fare davvero tantissime cose Sì Pizzaiolo secondo me è il più difficile Devi essere davvero Devi essere molto veloce Molto veloce Molto preciso Ci vuole talento Invece pescare è un po' più semplice Vi facciamo vedere anche quello Dopodiché secondo me Un po' di shopping E andiamo a casa nostra Certo Bisogna far vedere consulini a nostra casa Che poi nell'ultima live Che eravamo entrati Ma c'era troppo caos E non capivamo nulla Era una delle prime live addirittura Sì era un po' di tempo fa Però avevamo piantato dei fiori Che teoricamente dovrebbero essere cresciuti Lo spero Allora Non so neanche se sono riuscita a piantarli Perché era crashato tutto Ti ricordi che per il momento Che era esploso il server Perché eravamo in troppi Quindi spero di sì Spero di sì Ho fatto Mi hanno dato 125 coins Eccoci qui a pescare Allora praticamente Dobbiamo tirare con la canna E cercare di centrare Questi cerchietti che vedete Bisogna essere bravi a pescare Fere pescami Adesso ci prova Opla Pescata 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 Perché alcuni Alcuni li conosco Sì 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 Sono tutti youtuber E perché non ci siamo Non lo so Perché non abbiamo il poster Scusate Io mi compro quello di Dan No No Dove l'hai trovato? Ah ma devi per forza avere il plus C'è il dance floor Mi hanno aggiunto un sacco di cose per la stanza Ma che cosa bella Guarda quella roba Allora Il letto rosa A baldacchino Lo vedi il princess bed Cioè no vabbè È fantastico È bellissimo È pieno di roba bellissima Io mi prendo Uno specchio E lo voglio Facciamo blu Perché blu è bellino Perfetto Poi una desk lamp Credo sia abbastanza inutile Questo non so cosa sia Però mi compro queste Sempre blu Faccio tutto blu Ok Faccio tutto Faccio tutto blu Ufficialmente tutto blu Poi vediamo per il Oh mio dio che carino Cos'hai preso? Questo è il tappettino Per il nostro animaletto E poi il divanone gigante Questo qua sono tutte le case delle persone Guarda i fiorellini No che belli Ma è questa la tua È fanta No guarda che belli Adesso mi metto pure io Entro in casa tua Dai Aspetta Ah non si è entrato E volevo piantare qualcosa Ok dai pianta pianta Ti aspetto dentro Facciamo questo Molto bellino Devo Adesso praticamente Devo mettere anche l'acqua E water Tra cinque ore Cresce Perfetto Benvenuta Allora dai fammi vedere dove puoi mettere le tue nuove decorazioni Sono curiosissima Allora questa è la mia camera da letto Vedi? Bella si Bella Molto bellina E adesso la sistemiamo Allora ci mettiamo Questo lo voglio togliere Perché non mi piace Ho messo lo specchio Ho messo il poster E ho messo la tendina Bella Bella Molto 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 bellina Adesso andiamo nel bagno per favore Guarda quanto era triste Sì anche il mio era esattamente come questo Perché ripeto non c'era nulla Infatti è fantastico Ho preso un sacco di Io ho preso tutto rosa Quindi non ho da là di farmi il bagno È bellissimo Ok guarda Ho messo il lavandino In un angolino Perché lui è felice di stare negli angolini Ok Ok perfetto Lo posizioniamo così Ed è perfetto Ti piace? Molto Bellissimo Bellissimo Dobbiamo andare a vedere la tua casetta Sì Casa mia Dai Velocemente Velocemente Andiamo Mi sembra giusto Comunque la mia più grande Eh ma non è tutta arredata Mi dispiace Ma non è tutta arredata Allora Casa mia è questa Guarda siamo anche vicini Vieni 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 Sì 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 Siamo capitati vicini No vedi che le hai messe le piantine Ah sì No aspetta Aspetta non entrare No Non è Che è successo? Sicuramente le hai piantate Ma non le ho messe all'acqua E te l'ho detto che ero crashata Sono morte? Sì sono appascite Ho le piante appassite Vieni a vedere che tristezza No Cosa posso fare? Guardami Water Ah ecco lì Guarda aspetta Li hai fatti rinascere? Sì aspetta Aspetta anche questa Oh vedi che li ho messi tutti diversi Vieni vieni dentro Ok mi fa la tour Ci sono anche le finestre nella casa all'esterno Sono molto carine Allora sì sì dai vabbè Allora questo è il salotto Non mi sembra ci sia molto da Bellino Bellino Ma sono cambiate le cose Come? Allora sono cambiate alcuni oggetti Quindi mi ritrovo oggetti diversi nella casa Che non ho messo io Vabbè Questo ovviamente è la sezione per il mio animaletto Guarda le ho preso la cuccia Che si è messo a dormire Il lettino e pure la lettiera Cioè guarda Servizio completo proprio Servizio completo Questa è la cucina Oh Vedi che sono cambiate anche le pareti Io non avevo messo questo Ma è molto bellina però no? Sì bellina ma non avevo messo questa Guarda mi sono seduta per mangiare Mi porti qualcosa? Fammi anche Steph puccioso Si è messo qua per mangiare Hanno fame tutti Hanno fame tutti Niente? Non ci offre nulla? Non si può cucinare Mi dispiace Ma non è giocato Allora poi questa è la mia stanza da letto Ok La puoi vedere Molto bellina Posso dormire Ovviamente da finire di sistemare E questo era il bagno Cioè guarda che tristezza al bagno Cioè guarda che tristezza che era il bagno Andiamo in pizza party Lo vedi? Pizza party 27 di 30 Ok Vai Pizza Pizza party Vediamo Bello che organizzano i party Tu puoi partecipare o puoi farne uno tuo Non puoi creare il tuo senza avere Oh No vabbè Non ci credo Ma che belle queste pareti Ne hanno aggiunto un sacco Non c'erano prima Pizza vieni veloce Dov'è? Qua Pizza Ma che non mi fa prendere? Datemi la mia pizza Forse Hai visto che ha messo pure il La scotex vicino Così ti pulisci le mani Guarda questo puff Vieni Questa forma di zucca No Avevano messo le cose per Halloween E noi non siamo entrati No Perché stavamo facendo lo studio in quei giorni Uffa Vieni qua Vieni qua Qui c'è il party Qui c'è il party Bellissimo Stai belli Ti stia pure la persona che ha fatto il party Vedi che ha la cosettina Certo Il cappellino in testa No bellissimi questa cosa dei party E sto notando appunto Che hanno aggiunto anche tante cose A livello di pareti È davvero fighissima È bellissima questa parete Mi hanno migliorato davvero un sacco Questo gioco È davvero davvero bello Molto 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 carino Direi di fermarci così per questo video Fateci sapere se magari volete vedere Un altro video su questa mappa È molto bellina Ci sono diverse cose che non vi ho fatto vedere Tra cui Lavorare nella gelatteria E vabbè Arredare un po' meglio la casa Anche perché c'erano le home furniture E appunto ci sono tutte le cose Per i pavimenti Per i muri Eccetera E c'era pure una cosa Dove giochi con una pallina Un minigioco strano particolare Ok Che potrebbe essere divertente Quindi fateci sapere Se volete vedere un altro video E per questo video Ci fermiamo così Bene che stilisci così Se il gioco è giusto E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdermi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 ciao